Sarebbe stato solo Luca Orlandi ad agire contro Norma Mengardi, uccisa il 20 giugno scorso a Sale. A dirlo la procura di Alessandria, che ha di fatto chiesto l'archiviazione per i genitori di Luca, Ivana Ferrari e Pietro Orlandi, che in un primo momento erano stati iscritti a piede libero nel registro degli indagati. Insomma, Luca Orlandi avrebbe, secondo l'accusa, fatto tutto da solo. Avrebbe investito Norma Mengardi mentre la donna si trovava sulla strada che porta alla sua proprietà, poi avrebbe nascosto il cadavere nell'auto della donna e dopo averla spostata in una zona isolata l'avrebbe data alle fiamme per poi ritornare indietro a piedi attraverso i campi. Le motivazioni di questo folle gesto starebbero tutte in una serie di litigi avuti con Norma Mengardi per questioni economiche. Sembra che il ragazzo di 24 anni che gestiva insieme ai genitori un'azienda agricola non pagasse da tempo gli affitti di alcuni terreni di proprietà della donna e che venivano lavorati da lui. Ora si passa all'esame degli atti da parte degli avvocati della difesa Gabriella Boero e Vladimiro Meisina che hanno 20 giorni per depositare fascicoli e memorie o per chiedere di risentire l'indagato. Luca Orlandi, inizialmente reo confesso, aveva poi ritrattato l'ammissione resa durante l'interrogatorio. La sua verità su quello accaduto la mattina del 20 giugno sarebbe molto diversa rispetto alle ipotesi formulate dall'accusa. Le indagini erano state effettuate dai carabinieri del nucleo investigativo, dal reparto operativo del comando provinciale e dai loro colleghi di Tortona che grazie anche alle telecamere erano riusciti a notare l'auto di Luca Orlandi che transitava nella zona dell'investimento. La famiglia di Norma Mengardi è assistita dall'avvocato Guglielmina Mecucci.